Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi parliamo di YouOdler che è un'azienda se fai, quindi di finanza centralizzata e in particolar modo verso la fine vi farò capire perché secondo me può essere interessante perché a tutti gli effetti si tratta di una di quelle aziende classiche che permette di ottenere delle rendite passive sulle proprie criptovalute oltre a poter eventualmente prendere dei prestiti e anche fare trading in leva poi magari non andiamo a vedere più nel dettaglio, però ci sono delle differenze rispetto magari alle più tradizionali, alle più famose che mi hanno portato a guardare YouOdler e a sperimentarla, infatti da un mese che la sto provando poi verso la fine vi do anche proprio le mie impressioni a livello di utilizzo dunque partiamo subito con delle informazioni sull'azienda e sulla sicurezza dell'azienda visto che nel momento in cui si utilizzano piattaforme del genere ci si sta affidando a loro e alla loro sicurezza se è giusto prima informarsi, quindi c'è tutta la pagina relativa alle informazioni nel particolare YouOdler è una società che ha due sedi, una in Svizzera e una a Cipro quindi è compliante sia con le normative UE che chiaramente con le normative svizzere oltre a questo per quanto riguarda proprio la gestione della sicurezza YouOdler si affida a due partner in particolare in primo luogo YouOdler si affida a Ledger Vault per quanto riguarda la gestione della sicurezza e anche della detenzione delle cripto Ledger Vault chiaramente è una divisione della grande compagnia Ledger che per intenderci è la stessa che vende gli hardware wallet famosi e che probabilmente anche molti di voi utilizzano e nel particolare vedete questo articolo addirittura risale al giugno 2020 quindi sono quasi due anni che utilizza Ledger Vault come tra virgolette partner per questo tipo di servizio inoltre e lo possiamo andare a leggere in questo paragrafo qua c'è una assicurazione da 150 milioni per viene definita crime insurance quindi se andiamo a leggere i dettagli sostanzialmente questa assicurazione attenzione non assicura le vostre cripto in prestito a terze parti e non vi assicura sul fatto che se queste terze parti non ripagano i prestiti c'è sostanzialmente del debito che non è coperto vi assicura attenzione solamente su furti causati da dipendenti oppure dei leaks sulle chiavi private, sui seed physical breach of hardware quindi che vengono bruciati o vengono addirittura rubati proprio gli hardware wallet e le seed phrase questo è un po' tipico a quasi tutte queste tipi di assicurazioni sulle piattaforme sefai cioè vi assicurano ma non vi assicurano sui prestiti vi assicurano diciamo sul fatto che non perderanno i wallet, non perderanno le chiavi private e se i dipendenti sfruttano la loro posizione da insider insomma c'è questa assicurazione che può andare a coprirvi questo è importante chiarirlo perché il rischio di utilizzo di applicazioni sefai non è comunque zero o basso bisogna comunque valutarlo come un rischio medio nel senso che si tratta di prestiti noi forniamo la liquidità, questa liquidità viene utilizzata e data a terze parti che poi ovviamente ci ripagano degli interessi sopra e buona parte di questi interessi viene data a noi e una percentuale ovviamente va all'azienda stessa che permette tutto questo ma ancora più interessante secondo me è questa partnership infatti da settembre 2021 quindi parliamo di circa 5-6 mesi Uodler ha integrato Fireblocks come partner strategico sempre per la questione della sicurezza quindi gestione, trasferimento, custodia delle cripto perché dico che è molto importante perché Fireblocks è uno degli enti più famosi e anche più utilizzati da tutte queste piattaforme sefai se infatti andate a vedere magari anche i vari competitor di Uodler troverete che Fireblocks è spesso uno dei partner proprio per quanto riguarda la gestione delle cripto e la sicurezza quindi il fatto che anche Uodler si affidi a Fireblocks è sicuramente interessante anche perché Fireblocks è un'azienda lo vediamo poi scritto qua sotto se proprio vogliamo avere una mini sintesi di ciò che è Fireblocks insomma è una di quelle aziende che è anche già regolamentate già ha partner e lavora con tante aziende importanti del settore quindi può dare una sicurezza in più inoltre Uodler è anche membro di questa blockchain association si tratta di un'associazione indipendente una sorta di consorzio dove eventualmente se uno avesse dei problemi può diciamo cercare di fare affidamento a questa associazione che porterà avanti il problema e cercherà di farsi sentire appunto con più voce in capitolo però gli aspetti più importanti lato sicurezza restano la partnership con LedgerVol tra assicurazione da 150 milioni e da poco anche l'integrazione di Fireblocks come altro partner strategico detto questo passiamo a vedere perché secondo me Uodler è interessante nonostante ci siano ormai tante piattaforme di questo tipo che offrono servizi simili infatti Uodler offre dei tassi particolarmente elevati o comunque tra i più alti del settore ma non è questa la caratteristica che secondo me è stata la più interessante e tra l'altro non è questo il motivo per cui la sto sperimentando perché se andiamo a vedere un po' gli interessi sono sul 12% diciamo 10-12% sulle stablecoin, Bitcoin 4.8, Ethereum 5.5 qui rimaniamo un po' nelle classiche percentuali anche dei competitor sebbene il 12% sulle stable in pochi lo offrano magari Crypto.com per chi ha la carta verde superiore ma la cosa interessante ed è anche il motivo per cui la sto sperimentando io è che offre il 12% anche su EURS che è una stablecoin legata direttamente all'euro e quindi non presenta la volatilità del cambio euro-dollaro chiaramente quindi c'è solo questo vantaggio in più oltre a questo secondo me è interessante anche il rendimento su PAX Gold che è dell'8.2% e che è più alto della media però quello di PAX Gold personalmente non lo sto sperimentando sicuramente comunque ripeto è più alto della media perché su PAX Gold non si trova solitamente un interesse dell'8-8.2% poi in realtà le crypto sono tantissime qui possiamo vedere tutto l'elenco c'è Luna, Atom, FTT, AVAX, DOT, Matic insomma ci sono veramente le più famose ma probabilmente le più interessanti almeno a mio avviso sono proprio EURS e PAX Gold perché ci sono rendimenti più alti del normale e su EURS non è così facile trovare delle piattaforme che lo accettino un altro fattore molto importante da vedere secondo me sono le commissioni quindi quanto costa ad esempio depositare fiat o cripto e quanto costa prelevare sia fiat che cripto è giusto informarsi su questo perché poi è bello andare a vedere quanto rende e tutto ma dobbiamo sicuramente depositare e un giorno vorremmo prelevare quindi è importante saperlo prima di poi farlo anche perché poi se lo facciamo senza andare a conoscerlo alla fine siamo costretti ad accettare qualunque tipo di fee che ci venga proposto dunque per quanto riguarda le deposit fee sul bonifico quindi bank wire non ci sono nel senso che se fate un bonifico nel particolare il bonifico arriva in Lituania quindi questo è importante perché magari qualcuno può avere dei problemi nel fare dei bonifici verso l'estero comunque non ci sono commissioni stessa cosa per deposito cripto o stablecoin quindi chiaramente il deposito è tra virgolette gratuito ci sono dei minimi infatti se non sbaglio anzi è scritto anche qui ci sono 100 euro di minimo come deposito bonifico e 5 dollari invece per quanto riguarda le cripto come minimo a montare di deposito per quanto riguarda i prelievi invece se andiamo a prelevare fiat quindi euro nel nostro caso ci saranno 5 euro di commissioni questo è importante perché appunto di nuovo quando preleviamo magari non sapevamo di questi 5 euro potremmo rimanerci anche un attimo male invece 5 euro sono fissi da pagare se invece andiamo a prelevare delle cripto o stablecoin ma comunque in generale delle cripto dipende da quali stiamo andando a prelevare e da quale rete scegliamo infatti vi dico subito che controllando un po' sulle stablecoin se si sceglie la rete di ethereum si vanno a pagare le fee classiche della rete di ethereum se si sceglie invece la rete di binance che è spesso presente si pagano poche commissioni mi pare un dollaro su bitcoin invece non ci sono commissioni di prelievo quindi è possibile prelevare bitcoin gratuitamente senza pagare le fee sul prelievo ok quindi la funzione classica dell'andare a guadagnare degli interessi l'abbiamo vista ed è estremamente semplice ed è quella per cui la sto utilizzando io questa piattaforma che però offre anche le classiche altre opzioni di tutte queste piattaforme se fai nel particolare questa multi hodl che permette in sostanza di andare a fare un trading in leva sia long che short su una determinata cripto vi faccio un esempio pratico che secondo me è più chiaro ipotizziamo di andare a prendere la coppia btc usdt e ancora una volta ipotizziamo che il prezzo salga perché abbiamo fatto le nostre analisi avendo scelto la coppia bitcoin usdt chiaramente il nostro collaterale sarà nella forma di usdt o comunque di dollari ipotizziamo per capire bene l'esempio quindi anche il funzionamento di avere 10.000 USD quindi 10.000 dollari come potete vedere in sostanza noi possiamo andare a scegliere la leva che va da un minimo di 2x ad un massimo di 50x che è ovviamente esagerato è un rischio folle a mio avviso ecco se ci fate caso quello che fa la piattaforma è che imposta delle MC dove MC sta per margin call quindi degli stop loss e dei take profit chiaramente più la leva è alta più sia la margin call che il take profit si stringono mentre più la leva è bassa più entrambi vedete che si sono allargati molto quindi adesso il margin call a 19.000 e il take profit a 65.000 dollari e in realtà quello che fa questa strategia è una classica strategia da looping quindi quella che abbiamo descritto più volte in vari video quindi lui prende questi dollari li converte in bitcoin con quei bitcoin prende un prestito in dollari e poi usa di nuovo quei dollari per comprare bitcoin e così va avanti e qui per esempio lo fa per 1, 2, 3, 4, 5 volte ok? quindi noi con i nostri 10.000 dollari che sarebbero circa 0,26 bitcoin andiamo ad agire con leva per 2 come se ne avessimo 0,52 se metto leva per 50 è come se dei nostri 0,26 qui fa una serie di loop che è veramente andiamo ad operare praticamente con 13 bitcoin ok? quindi il rischio a mio avviso di queste operazioni qua è molto 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 elevato chiaramente c'è anche la classica funzione dei prestiti quindi che cosa si può fare? si può avere un collaterale che vi ricordo essendo collaterale depositato su Yodler è un collaterale che comunque vi genererà interesse quindi ipotizziamo di avere un bitcoin e di voler prendere un prestito in euro si può scegliere anche qui in realtà di prenderlo o in euro o in tether ad esempio quindi anche una crypto e si può scegliere chiaramente un loan to value appropriato quindi l'85% a 30 giorni 90%, 70%, 50% personalmente il minimo sarebbe il 50% ma andrei ancora più basso si può comunque fare una richiesta speciale tra virgolette quindi impostare un loan to value più personalizzato e anche con durata personalizzata anche qui a cos'è che serve fare dei prestiti? perché spesso è una domanda che è ricorrente cioè a cosa serve prendere dei prestiti se devo mettere il collaterale? serve magari per chi non vuole pagare plus valenze quindi vendere magari il proprio bitcoin ma comunque ha necessità di liquidità oppure banalmente non vuole vendere bitcoin perché rimane positivo in ottica a lungo termine su bitcoin però ha comunque bisogno di liquidità nel breve termine e quindi ha necessità di prendere un prestito e infine c'è il turbo charge che è l'ultima funzionalità che Yodler offre ma che è estremamente simile al prestito quindi comunque si mette del collaterale e si prende un prestito che qui la strategia diventa più complicata nel senso che se andate a vedere anche questa immagine i prestiti diventano prestiti a catena quindi sempre delle loop strategy ma il senso rimane quello di mettere del collaterale e sfruttarlo per prendere un prestito personalmente come vi dicevo all'inizio sto sperimentando questa piattaforma solamente per il suo lato rendite passive che secondo me è quello più interessante e quello per cui utilizzerei questa piattaforma per l'appunto nel particolare su EURS perché appunto offre comunque un rendimento piuttosto elevato il 12% non è affatto poco su tra virgolette l'euro che quindi permette di non esporsi alla volatilità con il cambio del dollaro l'ultima cosa importante che vi voglio dire su Yodler è la sezione riguardante l'assistenza quindi quando si ha bisogno di aiuto infatti è 24 ore su 7 quindi c'è sempre e ci risponde direttamente una persona oltre a questo comunque c'è la sezione help che è pieno magari di articoli su problemi che potremmo avere simili ad altri quindi per tra virgolette risolverli prima di parlare direttamente con una persona nel caso comunque questo non vi soddisfasse potete proprio fare le richieste fare il ticket e verrete contattati appunto dal supporto personalmente mi è capitato una sola volta ma non era un problema era più che altro avevo bisogno di avere un'informazione effettivamente mi hanno risposto in breve tempo detto questo ragazzi spero che abbiate apprezzato il video vi lascio il link in descrizione qualora vogliate iscrivervi a questa piattaforma per sperimentarla ancora una volta vi ringrazio per essere arrivati fino a qui e io vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti